Partita di deathmatch a squadre, mappa skyline 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 Partita di deathmatch, mappa skyline Partita di deathmatch a squadre, 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 mappa skyline Grazie a tutti. Pollo, dovevi ammazzarmi subito. Eh, vabbè, pazienza. 5 secondi, 3, 2, 1. Ok. È finita. Una vittoria di misura. La prossima volta impegnatevi. 13-2 e abbiamo vinto. Ok, raga. Enjoy. Enjoy.